Musica Dopo l'audizione di tutti i rappresentanti del mondo dell'RSA e del mondo della cooperazione è uscita un elemento chiaro e cioè che una pluralità di fattori l'aumento dei prezzi, l'aumento dei costi di energia l'aumento dei costi legati alla gestione Covid hanno generato una situazione di forte sofferenza per l'RSA che ha bisogno, come sta facendo l'assessorato di una serie di analisi anche di cambi nell'organizzazione e nella normativa ma c'è bisogno anche di un aiuto economico perché oggettivamente se no tante RSA non riescono più a sostenere la gestione del servizio Garantire la continuità del servizio delle residenze sanitarie assistenziali impegnando le quote sanitarie erogate dalla Regione che risulteranno non spese al 31 dicembre prossimo è quanto chiede la proposta di risoluzione ed iniziativa della Commissione Sanità guidata da Enrico Sostegni nell'atto si chiede anche alla Giunta di ripensare il modello organizzativo delle RSA anche all'interno di un contesto più generale di residenzialità assistita con formule moderne di vita in comunità il co-housing io penso che il sistema sarà oggetto di un'importante trasformazione anche nella differenziazione dei livelli assistenziali cioè noi abbiamo bisogno di un'offerta di RSA molto diversificata in parte già lo è dalle basse intensità a quelle con più alta integrazione sanitaria e intorno a questo anche rivedere il sistema delle rette integrarlo con tutti i servizi del territorio l'atto è stato approvato con un voto unanime dall'Aula Consiliare è un documento ben fatto è un documento che chiede giustamente è il nuovo esercizio stilistico del Partito Democratico su qualunque punto chiedere soldi al Governo quindi chiede giustamente un impegno del Governo per prevedere un aiuto anche per sostentare i costi energetici dell'RSA il Governo ha previsto di questo se ne sono dimenticati non l'hanno scritto nel documento gli chiederemo di inserirlo noi che il Governo ha destinato 21 miliardi su 30 della manovra ha i costi energetici non ha inserito l'RSA nella lista dei soggetti che ne possono beneficiare quindi è giusto chiedere che vengano inseriti come è giusto però chiedere anche che la Regione Toscana ripete la quota sanitaria perché è troppo facile non far niente per 15 anni aspettare che l'RSA giustamente sottolineo giustamente ti vengano sotto il palazzo della Regione a dirti che se continuiamo così sono destinati a morire quando invece un anno fa un anno e mezzo fa eravamo tutti sperticati in grandi elogi ringraziamenti alla grande rete dell'RSA Toscana che hanno fronteggiato in prima linea la battaglia per il Covid poi quando chiedono aiuto dire ok chiederemo soldi al Governo no facciamo chiarezza nel senso che la Giunta aveva predisposto più di 200 milioni per l'RSA alla fine dell'anno ci sarà un disavanzo nel senso un positivo di 27 milioni 30 milioni all'incirca e questo è ciò che le risidenze per anziani richiedono per sopperire a tutte quelle mancanze che hanno dovuto purtroppo soffrire in questi anni da questo siamo ripartiti mi fa piacere che la Commissione abbia recepito i miei messaggi che ormai durano da più di 12 mesi per quello che riguardava proprio le difficoltà delle residenze per anziani che hanno fatto da punto Covid hanno fatto da centro di accoglienza proprio per gli anziani che avrebbero se no intasato il pronto soccorso nel periodo Covid e comunque la necessità proprio di rivedere le quote sanitarie o addirittura rivedere quello percepire quello che era stato un documento del 2010 in riferimento all'Istat questo è alle base di tutto dopodiché certo si cercherà e ci auguriamo che il Governo possa dare e stanziare più fondi proprio perché questo è comunque una nazione che invecchia sempre di più ha sempre più persone anziane che hanno la necessità di essere curate e di avere delle residenze adatte proprio a quelle che sono le esigenze più gravi meno gravi ma anche le persone che si rimangono poi dotate da sole certamente le RSA rappresentano una porzione fragile della nostra società che aveva bisogno già da tempo di essere aiutata già al momento in cui la pandemia ha colpito molto duramente e sono state molte le proteste che sono arrivate anche dai gestori e dalle famiglie che non potevano più permettersi di mantenere i propri cari all'interno delle RSA anche quando non avevano nessun'altra scelta quindi la regione deve intervenire organizzativamente innanzitutto perché ricordiamo che c'è anche una carenza di personale che in gran parte in buona parte è transitato dalle RSA con i concorsi alla sanità delle ASL e quindi le RSA si sono trovate di fronte anche a questo problema insomma la regione deve mettere mano sicuramente a delle soluzioni che non sono solo di carattere economico ma anche di carattere organizzativo la tenuta è fragile per una ragione fondamentalmente sociologica che la popolazione sta diventando sempre più anziana e quindi più bisognosa di cure anche continue da parte di personale che non possono essere le famiglie famiglie che dall'altra parte complice anche una situazione economica sfavorevole devono impiegare la maggior parte del loro tempo nel lavoro e nell'accudimento magari di altre persone a casa e quindi si ritrovano in questa difficile situazione di non poter magari accudire a casa ai propri cari dover far ricorso all'RSA per delle cure più particolari e non avere denaro per questo ecco siamo di fronte a un crollo del welfare sanitario e familiare in cui la Toscana non si può dire più l'eccellenza che continua a professarsi ancora oggi bene che la Commissione abbia raccolto anche le nostre istanze chiediamo di fare di più per questo sono arrivati degli emendamenti che sosteniamo ma chiediamo di fare di più anche in termini economici una risoluzione di buonsenso che noi sosteniamo il Consiglio regionale deve essere accompagnato da delle risorse importanti non compete a me dire quanto 20, 30 o 40 milioni sarebbe semplice oggi dire quanto è evidente che il prossimo bilancio non può non tener conto di questa che è una richiesta oggettiva rispetto a una rivalutazione ma non solo di costi crescenti che le strutture hanno e di una rivalutazione delle rette che deve essere ovviamente sostenuta dal sistema pubblico seconda tappa della Commissione Sanità del Consiglio regionale fra gli ospedali della Toscana dopo Grossete è stata la volta di Pisa al cantiere del nuovo Santa Chiara assieme ai membri della Commissione anche il Presidente del Consiglio regionale oggi qui siamo con tutta la Commissione consigliare in questo grande giro d'ascolto che abbiamo messo in piedi stare all'altezza degli occhi delle persone dei loro bisogni perché poi questa struttura va riempita di professionisti di competenze di tecnologia perché il futuro della sanità passerà attraverso l'intelligenza artificiale attraverso i big data attraverso tutte quelle tecnologie che hanno un obiettivo migliorare la vita delle persone una giornata aperta dall'incontro con il direttore dell'area tecnica dell'azienda ospedaliera che ha fatto il punto sullo stato dei lavori l'unicità è che esisteva già una struttura storica un ampliamento con questa ulteriore realizzazione si completa un processo in corso e però la parte che viene realizzata è considerevolissima di dimensione perché è quella che deve ospettare il corrispettivo degli attuali immobili che abbiamo nel centro di Pisa dove c'è il vecchio Santa Chiara che viene ceduto e trasformato in attività più consune alla localizzazione che ha adesso e quindi c'è una grandissima occasione per cui un intero ospedale un'intera azienda ospedaliera si riorganizzi nella maniera più opportuna diciamo che poi il momento storico è così importante che noi stiamo studiando molto il tema dell'energia e del risparmio energetico e anche in questo caso abbiamo una risorsa unica che in altri luoghi è difficilmente reperibile cioè la geotermia e quindi noi stiamo studiando con l'università di Pisa ma anche con tutti i tecnici proposti degli uffici regionali un progetto che preveda l'utilizzo di questa risorsa nel primo pomeriggio poi l'incontro con il personale sanitario al termine del quale il presidente sostegni ha tracciato il bilancio noi ci teniamo a parlare con chi lavora nel sistema sanitario direttamente quindi con i professionisti con le rappresentanti dell'organizzazione sindacale perché da loro vogliamo sentire problemi che vediamo anche sui dati ovviamente le questioni principali sono il tema del personale qui a Cisanello non c'è un problema di trovare i professionisti che vengono a lavorare qui volentieri ma c'è un problema dei limiti alla spesa di personale che noi sappiamo essere imposto dal livello nazionale e non eliminato ovviamente poi c'è il tema del rapporto con il territorio che è venuto forte cioè come la mancanza di servizio sul territorio e di assorbimento delle richieste dei cittadini porta poi un accesso anche in proprio soprattutto nel pronto soccorso in Golfando e poi anche nel presidio ospedaliero e quindi si conferma che questa necessità di investire sul territorio cosa stiamo facendo come regione come paese perché è una misura del PNRR sarà determinante ed è una sfida davvero che interessa anche a ospedali come questo quindi insistere sulle case di comunità anche nell'area pisana che ancora non sono poche sì assolutamente penso sia nella costruzione e più che altro nell'organizzazione dei servizi quindi davvero in un'operazione di lavoro integrata tra medici di medicina generale pediatri infermieri specialisti assistenti sociali c'è tutto un comparto di soggetti che possa davvero essere un punto di riferimento un cittadino e poi gli ospedali di comunità come luogo dove si può dimettere chi appunto deve essere dimesso ma non può ancora andare a casa invece rimane in un presidio come questo insomma tutti aspetti che con l'organizzazione del territorio sono fondamentali questo è un ospedale importante un ospedale dove si deve fare alta intensità e ricerca noi abbiamo bisogno di luoghi dove si fa ricerca dove la clinica e la ricerca sono uniti insieme i migliori ospedali del mondo sono quelli dove accanto alla clinica si fa ricerca e questo Cisanello per noi è uno dei punti di eccellenza della Toscana abbiamo incontrato grandi professionalità ma sul fronte personale non mancano le criticità dice il vicepresidente Ulmi professionisti estremamente motivati ci sono state anche delle critiche naturalmente critiche che noi di fatto già conoscevamo in quanto specialmente noi noi della Lega il fatto delle tre asle l'abbiamo cavalcato perché le tre maxi asle per noi non dovrebbero essere tali ma dovrebbero essere a misura provinciale e è stato testimoniato anche dal fatto che dice che la filiera di direttore generale cittadino è troppo lunga questo proprio perché c'è una distanza abissale tra le zone decisionali del direttore generale e poi come le ricadute che abbiamo sul cittadino c'è anche un tema personale dall'incontro con i sindacati che cosa è emerso questo è un osocomio di rilevanza nazionale sì è un osocomio di rilevanza nazionale e un attaccamento all'azienda molto importante sicuramente ci sono delle questioni economiche anche che dovrebbero essere riviste in quanto diciamo che finora le mancanze della sanità toscana sono state in qualche modo tamponate dalla voglia di farlo da parte dei sanitari questo però a un certo momento dovrebbe essere ristorato con adeguate risposte economiche per l'alto valore del suo contributo al progresso scientifico alla diffusione del sapere unitamente alla sua autorevole attività di parlamentare questa è la motivazione del conferimento del premio Pianeta Galileo 2022 alla professoressa senatrice a vita Elena Cattaneo spero che ci sia una maggiore consapevolezza del fatto che la scienza e il suo metodo sono la bussola migliore che possiamo avere per essere guidati nei mari in tempesta la scienza altro non è che un metodo appunto per approfondire come stanno e capire come stanno le cose intorno a noi conquista pezzi di conoscenza per tutti noi li mette a disposizione con dati, evidenze, prove visibili, pubbliche verificabili, ripetibili sarebbe assurdo con questi bagagli di esperienze di cui disponiamo arrivare a decisioni che prescindono dai dati di fatto e dalle evidenze quindi spero che sempre più le decisioni legislative siano nelle decisioni legislative possano entrare le prove e le evidenze scientifiche è un riconoscimento sicuramente al grande lavoro di ricerca che la senatrice Cattaneo porta avanti ormai da tanti tanti anni e che hanno visto l'Italia emergere nel mondo ma è anche un premio alle tante donne alle tante ragazze e tanti ragazzi che si impegnano con fatica nel mondo della ricerca quando questa ricerca poi si trasforma in una risposta per migliorare la vita dei cittadini è qualcosa di bello e di enorme di ricerca e di ricerca Grazie a tutti.